e salve a tutti amici del tubo e bentornati a un altro grandissimo video siamo sempre sulla minecraft data e in questissimo questo episodio voglio farlo diciamo prendendo vabbè ho visto che parlavo della redson e altre cose ma sicuramente voglio farlo più che altro sulle strutture migliorare un po' quello che abbiamo e anche togliere questa ghiaia perché fa schifo direi di rimpiazzarla vabbè forse la ghiaia mi serve quindi vorrei prendere una palla a modo forse voglio riparciarle della ghiaia con magari una specie tipo volevo farlo guardate se vi ho capito il concept tipo così non dico sia bellino si dai no è bellino dai bella forte ah un'altra cosa poi ho installato la optifine come vedete la cosa in cima vedete optifine hd ma l'ho trovata per i più copi di te per la 1.8.1 perché le altre premette minecraft non partiva mi dava un errore stranissimo che poi vi mostrerò e io farò anche il tutorial per come scaricarla che sicuramente vi servirà l'optifine ragazzi è utilissima prima pur avendo un computer parecchio potente con se ci cadirà laggavo mentre ora dateci con 5 fps cioè di lusso va bene andiamo a prendere tutto quello che ci serve quindi sabbia non sabbia ma tanta sabbia io di fare così stare qui mettiamo un bacco qua e fare questo certo così le palle finiscono subito però non lo sabbia serve ok e poi si fa i giusti vai 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 poi quiEle perché cominciava a parlare del fattore luogh il fattore rende sarebbe che è anche l'ora di vedere e di scoprire dove è l'avevo già scoperto e mi sarei già anche utilizzato perché ho creato veramente nel leather ho creato nel leather veramente visto che è molto lontano a casa via più di 1000 blocchi ho detto utilizziamo il leather che è 8 blocchi sul leather equivale a un blocco contrario un blocco suonare di equivale a 8 blocchi di modo reale aspettate un secondo io l'ho passata è off non può dare la musica se è off va bene bug a bestia che sta esistendo ah si è l'end praticamente con l'end ora proprio bisogna creare già tutte le farm di enderman di enderbell eccetera perché l'enderman ragazzi mi piace tantissimo io voglio bene l'enderman voglio tanto bene qualche cosa se mi piace tantissimo parecchia speravo solo che ci basti facciamo più soltanto qua giù no facciamo così 40 40 solo porco scherzo poi slab 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 non voglio fare e proprio ci credo passarsi qua ah qua ci facciamo delle scalini ok va bene va bene come facciamo ma devo utilizzare questa roba tipo cooo cosa ci ha fatto lì così vieni con la palla di terra e ti vieni tutta la finta guarda la palla foto la finta ok prenderò avanti così e quindi così ah ma viene malissimo è la velina ok 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 ragazzi che c'erano pure dentro però sono cose che vanno fatte e poi da un altro sarà che i pesce voi da vedere oddio no no non mi bloccare no questo blocco si che non pare se può essere l'uomo di sotto futuro un due 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 ah era si cosa è lì ? è torn No, 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 no. Ok, d'accordo, ne ho finiti. Rebellino. Non è baluccio, ragazzi. Date voi, cioè, è bello. Solo che questi qui... Non ci stanno, si verrebbero... Nell'isola più normali, come questi. Questi vanno bellissimi. Là. Guardate che bellino, guardate che bello. Bello questo, ragazzi. Oh, che bellino. Ci faccio... Insomma, anche. Ora, questa parte di qua, purtroppo, lo... Non c'è materiale a face, che off camera si è diventato un po' mergioso. E invece, andiamo... Come stiamo parlando, nella sezione Nether. Allora, non mi togliere, è tutta una schifa che non mi serve. Oddio, quanta roba che c'è. Non mi serve. Niente. Oh, scheletro è cattivo. Ah, ancora. Ok, va bene. Andiamo dal Nether. Oh, è il grandissimo portale. Guarda, ci sono tomati. Faccio bagiare? Non ce lo faccio. Ok. Allora, come vedrete, ora al solito. Ci sono due ferrovie. Come vi ricordate, è quella che va alla fortezza. E questa qua, che va a portare al Nether. Guarda, vedete, ragazzi. Oddio, perché era partito così? Vedi qua, bravo. Che rumore brutto che c'è sotto. Oh, no. Guarda, si era già a portare. Si era già a portare. What the fuck? Ah, lo ho diventato io, che stupido. Ma che cazzo? Ma che cazzo? No, lo devi andare a portare. Perché c'è la com'è? Siete com'è voi? Non c'è la portare. Ancora le salire. Boh, vabbè. Ancora il portale. Andiamo? Eh, no, eh. Eh, no, eh. Dove mi muto, ora al portare? Dove mi muto, ora al portare? Vabbè, allora questo è il fatico portale del nerd con occhi a nissi. Vai schianta, c'è chi si ve fece che sparano. E molto presto ragazzi scendremo e faremo un casero di visione e dovevare. Sfattuto qua il nerd and the dragon, che lì dovremo anche farci un verso attribuzioni, eccetera, sarà molto difficile. Io credo, non si va a voler esplorare un po' in giro, per vedere perché non l'ho ancora esplorato, a dire il vero. Quindi dovrebbero essere il chest per le varie. O forse qualcosa, forse qualcosa l'ho visto anche da me. Poi dovrò anche successivamente finire la casa, perché la casa non è fatta poi benissimo. Cioè, vabbè, lo scherzo è completato, ma non è proprio finita. in questo modo. Quindi dovrà che fighi quella lì. Però è arrivata da qua io. No, ragazzi, perché qua è fascissimo. Beh, è difficile. Io ero arrivato. No, non ero arrivato da qua. Oh sì. Sì, mi riesce. Da qua. Sì, ci sono da qua. Ok. Va bene. Allora, mettiamo un'occhiata a quella di qua. Non mi metto per forza di qua. Non mi metto per forza di qua. Oh, qua c'è la pipa teca. Vabbè, beh, esserci la cassa con la nascosta. Vabbè, esserci qua. Delle casse nascoste ai lati. Se la troviamo ci farebbero comodo. Cioè, che altro roba che c'è dentro ci sarebbe comodo. Dove cavolo? Ah sì. Merda. E dai. Porco boia. Ok. Vai, vai. No. Abbiamo la rifornitura annuale di libri. E dai, cassia. Dove sei? Ah, l'avevo già esplorata. Cioè, è vero. Ma allora, mezzo l'avevo già esplorata questo posto. Cavolo, mi fai andando? Vabbè, comunque l'avevo già presa. Allora, c'era... sì, c'era quella vela d'oro che ho a caso. Evidentemente. D'accordo, andiamo a portare. Conosciamoli dita, speriamo che ci butti la stessa punto. Perché... Mi sono andato tirato lì dall'Henderman. Oh. Che culo. Devo averci delle fottute vorticine. Merda, ero un legno. Cacchio, che si fosse brutta. Ok, però no, eh. Ma che culo? Quale sarà questo? Quale cavolo è? Andate. Oh, fa culo. Si fa così. Vedete? Adesso... Sono più o meno a 104 blocchi la distanza tra... Lo spawn... Del portale... Del nether... E quello dell'ender. Uh, ciao amico. E... Per arrivare più veloce qui... Ci ho fatto il portale. Se vi è capata questa idea magari lasciate... Vi piace, commentate... Qua... Ditemi anche un po' se... Potrei migliorarla... Ma... O se può andare bene così... Perché alla fine è solo mezzo di collegamento. Non ci andremo mica... Ogni volta... Qualcosa... Dal... Nell'ender. Allora... Devono mangiare... Maio... E maio anche io però... Vai, vai... Allora... 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 Ho... 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 Ho ottimizzato bene... Come... Maio... Vedete... C'è una chest... Consiglio... Maio... Come... Vedete... Qua... Di fianco c'è una chest... Ora vedete il zucchero che vi fa diventare l'acqua, la fuzione della rapidità, e poi la glostro che vi pare che accelera i tempi, no, per fare allunga i tempi, si dovrebbe esser così, quindi allungo il tempo della durata, via, e per un brevissimo tempo avvio che l'abbiamo creato un sistema automatico, eccolo qua, guardate, vedete, sorgere le pozioni di abilità, da adesso quando ho finito l'indicatore, sorgeremo delle pozioni, quanto spade di oro che ho, noia, perché non ci faccio niente, allora via questo, andiamo qua, andiamo, eh no, le rende più rapida, si vabbè, mi aumenta la potenza, via, da ora è passato a due, non è che, non so, da quanto è, che registro, oh, siamo quasi in fondo, vabbè, eh, cosa posso fare, vabbè, posso dire di fare, la soddina, si dà, la soddina, si, la finisco, dovrebbero fare, questa puntata serve abbastanza, no, va bene, mi vado a vedere un po' com'è, com'esserà, e dov'è, soprattutto, portate il nether, che veramente dovrebbe essere in quella direzione, la, la bestia è laggiù, più o meno, i blocchi lottano per su di là, e dai, salio, e dai, salio, come salio, come salio, come salio, come salio, come salio, non so, 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 non so pesci in pala di abbastanza via 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 poi dovrei anche trovare i piccoli consigli di touch con tocco livello che ci servirà soprattutto per la glowstone però ti ho tantissime cose vai adesso dovrebbe bastare sicuramente ecco il re povere povere bisogna finire la velocità finire la velocità è molto utile ecco perchè le fa le pozioni perchè sono utilissime ora io arrivo qui riprendo così e dentro 2 o 1 1 1 2 3 vale 47 diventano 28 ragazzi solamente con tutto con la sabbia si fanno solo mettere tutti questi però brutto storico quando sei come ciicio Non lo schifo. Allora se ho prescierto di là, vabbè, che ti vanno anche di qua. Non lo schifo, non lo schifo, non lo schifo, non lo schifo. Non lo schifo, non lo schifo, non lo schifo, non lo schifo. Non lo schifo, non lo schifo, non lo schifo. Quei pasticci, dai, oh. Non lo schifo, non lo schifo, non lo schifo. Ora mi clicca quando non devi. Ho una cosa qua. Vabbè, che bella c'è, si fa più grande. Si, a voglia. Si fa più grande, si fa così. Si fa più grande. Si fa più grande. Eh, che spettacolo. No, però dai, in effetti è bella, dai. Molto facilitieschi. Una po' laddata. Qua c'è la tua, ma che se la lega? Qua c'ho due, non so che vi riservano. E' figo, c'è il cazzo, guarda. Ma anche qua, proprio dovevo trovare un grande paesaggio. Anche questa, ma questo terreno non cadono al sistema. Questo è brutto. Della vita a morire. Prego quello che ho fatto per far entrare i maiali. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh! l'occhio perché viene fuori bocca una porta l'occaso qui ci sono qui 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 c'è la merda ve l'avevo una? ah ok oh non si è passato oh ecco ora lo scherzeri vanno aggirati perché se voi andate contro sarà molto difficile arrivare a lui ora spero mi basti almeno questo pesettino qua oh noi siamo abbastanza 36 non è poi così tanta sicuramente ci lascio subito ok no ci vuol dire oppi l'altra che fai vedi che palle ci vuol dire ci vuol dire sotto vabbè ragazzi mi sono da perso la finisca off camera comunque è bello dai vabbè lì allora è tutto parte con ringraziavi tantissimo per la visione vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video o non mi piace se non vi è piaciuto il video e magari iscrivetevi anche perché nei commenti poi iscrivetevi al canale se volete seguire tutte le novità di minecraft e pc pocket edition applicazioni varie per android e altre tantissime cose se vi interessate basta fare un saluto sul mio canale e avete tutto a vostra disposizione poi se avete sempre postate anche dei link in descrizione google plus facebook sito web sono tutti lì quindi io vi ringrazio e vi lascio al prossimo video ciao a tutti ragazzi